pensaci Cribbio Cribbio, aio, Cribbio, nei denti me l'ha dato Buonasera cari stronzi, inferiori, congiunti mercanti del caos, amici amiche dell'apocalisse di Bygar Raft di Somobut e delle Talpe ben trovati in quel giorno dell'anno dove puntualmente si leggono le puttanate di Eciroda la gente dormiente è tornata la leggenda dormi e dormi dormi e dormi no perché in Giappone e come ogni anno c'è stato il Jump Fest e come ogni anno Eciroda dice puttanate allora questa sera insieme a voi ci andiamo a leggere a commentare le puttanate che ha detto Eciroda qualche giorno fa e poi per sfizio mi sono andato a prendere adesso proprio 5 minuti fa le puttanate che ha detto nel 2021 e nel 2020 per capire poi se ci troviamo con quello che è successo in PIS va bene va bene ti torna questa cosa sì certo perfetto e poi ampio spazio al Q&A questa sera non posso immaginare che cosa uscirà e poi ci sono un po' di annunci da fare e li facciamo dopo li facciamo adesso li facciamo adesso quando c'è il picco di gente così direttamente settimana prossima settimana prossima dove è che io non streammo me ne vado in vacanza ah finalmente vedo l'ora così non mi vedo più facce di merda tutti no mi voglio bene no non è vero o sì forse non lo so vabbè mandiamo la sigla sigla no aspetta secondo me abbiamo sbagliato sigla perché se dobbiamo leggere puttanate di Oda questa è roba da processo è roba da processo vera vera qui ci serve la preparazione H per le morroide e questa sera saccheggeremo tutto il materiale di onepiece.it non lo dico proprio spazio grazie Toschi grazie Toschi per aver lavorato a posto nostro e quindi allora vediamo capiamo insieme che cosa ha detto Esciro Oda durante queste ecco qui il messaggio di Esciro dal Jump Fest 2023 salve a tutti tutti coloro che stanno partecipando alla Jump Festa o che la seguono da casa qui è Ichiro Oda la più grande star del mondo o qualcosa del genere ma si prende per il culo da solo sì esatto fantastico nell'ultimo anno Wano è giunta a conclusione e qui immagino giubilo da parte di quelli che erano a Jump Festa la storia principale sta entrando nel vivo dopo 25 anni anche meno anche meno e One Piece Film Red ha avuto un gran successo è stato davvero un 2022 assurdo tutto lo staff urla sempre di gioia cioè lì dice tutto lo staff urla sempre di gioia ma quello sta da solo a casa cioè immagino per tele ascolta per telefono gli mandano i vocali gli mandano i vocali al telefono mi pare che i Roller Joy stanno impazzendo nello studio ah che belli sono contenti senti qua e Uta apparirà anche nella Red and White Song Battle cioè come se non bastasse a Carrotto i coglioni ma non era morta nel film alla fine no muore ma certo che muore teoricamente è morta ma ha detto che ritorna in una intervista data prima aveva detto che tornava anche nel manga Uta in qualche modo ora ti dico cosa ha detto oggi un ragazzo la Q&A non ricordo chi ma penso che sia la cosa più terribile che io potrei morire da ridere da quanto succede quando vedremo il flashback in cui Tic ha fatto la cicatrice a Shanks c'era Uta perché Uta c'era in quel momento lì e quindi era tipo una come con Oden Momonosuke e Kaido quando simula la vecchiaccia che simula Momo ecco lì si immaginava la stessa scena con Uta e Shang si distrae e ti ce lo colpisce agli occhi con gli artigli almeno una cosa buona l'ha fatta Uta allora io morirei dal ridere di una cosa del genere cioè sarebbe incredibile tra l'altro a proposito di scusa mia morte sembra non c'entrare niente ma c'entra a proposito di interviste di Eciroda non so se la sai questa storia cioè non so se chi ci sta ascoltando la sa questa storia era uscita fuori questa notizia rimbalzata ovunque su tutti i network semi ufficiali di One Piece secondo le quali quello dell'Arabia sì il sommo Buta o il re diciamo dell'Arabia Saudita avrebbe dovuto intervistare Oda che andava di persona a questo festival del libro per farsi intervistare da diciamo questo fantomatico youtuber che c'ha tipo 600.000 iscritti al suo canale ma quando fai video su One Piece fa meno visualizzazioni del me del re cioè è una roba già questo fa ridere ma va bene lasciamo stare come è possibile sì e poi e quindi tutta la gente Oda vai in Arabia Saudita Oda vai in Arabia Saudita la gente è rosicava ma chi è questo mamma zumba io ci devo fuori e poi guarda caso un giorno prima della fantomatica intervista hanno annullato tutto ma non è che doveva intervistare il regista di Red chiedo eh per un amico saluto al regista di Red il regista di Red che vorrei ricordare in Italia è stato intervistato solamente da due persone face to face Alessandro Falciatore e Gian Maria Tammaro il resto hanno fatto solo un Q&A in generale con tutte le testate giornalistiche in quel del Lucca Comics e Games quindi se nel caso sentite di gente che ha intervistato Goro Tarikuchi capiamo insomma ma questo è un altro discorso ma andiamo avanti tutto lo staff urla sempre di gioia e Oda apparirà anche nella Red and White Song Battle spero che vi divertiate a vederlo in tv visto che sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo cioè fa pure la cosa ma crea hype crea hype crea hype cioè ma i giapponesi sono impazziti comunque questa Uta ovunque Uta di qua Uta di là anche il gioco di carte sta andando alla grande ricordiamo che il gioco di carte non è questo io sono ancora qua ancora non l'ho messo qua no io l'ho messo lì e lì è rimasto e le figurine che ho aperto la settimana scorsa sono ancora qui dentro nel pacchettino io ancora io ancora le figurine non le ho azzeccate ma non è questo il gioco di carte il gioco di carte è quello che tutti hanno sbustato tranne io e il re che questa cosa fa ridere oppure no perché non ce ne frega ma poi sono terribili quelle carte sono tutte spaiate non c'è se ci fosse un senso sono tutte con le immagini del manga ma c'è dentro anime, manga, fan art si ho viste ma è terribile è terribile è terribile però sta andando a ruba sta andando sta andando a ruba le grandi sponsorizzazioni non mi hanno pagato per dire comprate non ci hanno ancora pagato ci pagheranno credo ma per live questa cosa non ci pagano però io ve lo dico lo stesso ma più che altro perché veramente a questo punto io vorrei completare questo faccio i modi album quindi quando scendiamo in Italia tanto possiamo dire che scendiamo in Italia certo quando scendiamo in Italia il 14 il 14 di gennaio il 14 di gennaio Gabriele Francesco Toschi io siamo siamo anche dove siamo siamo a Bologna siamo a Bologna e non abbiamo ancora l'orario ma veniamo a Bologna a raccontarvi tante cose belle su One Piece su manga le anime esatto poi vi diciamo dove vi facciamo sapere nello specifico cioè lo sappiamo anche ma una news per volta una news per volta quindi mi raccomando venite Bologna è facilmente raggiungibile tra l'altro dove saremo 5 minuti dalla stazione centrale quindi mi potete proprio mancare ma andiamo avanti le carte gioco di carte sto andando alla grande cioè dici Oda quando ci dai un po' di soldi pure a noi l'altro giorno ho chiesto allo staff di averne alcune ma mi hanno risposto che non erano disponibili è possibile così cioè mi immagino Oda oh mi vai a comprare le carte no sono finite ma come sono finite ma è roba mia cioè ma non gli hanno mandato un deck in anteprima a questo cristiano per capire come erano mi sembra un po' strano però va bene sono trascorsi 25 anni da quando One Piece è cominciato che storia lunghissima ce lo dice da sola sono davvero felice che recentemente sempre molti più giovani lettori si stiano avvicinando al mio lavoro ero davvero eccitato quando è cominciato l'ultimo arco narrativo della serie e vorrei che lo fossero anche gli altri ma non ho alcuna intenzione di velocizzare la storia ecco quindi rilassatevi e godetevi la lettura ora io lo butto lì eh vai ma questo cristiano sono almeno 10 anni che ogni jump fest dice no comunque sto per concludere One Piece abbiate pazienza un altro poco ci stiamo arrivando è tutto a posto allora la gente oddio qua non può dire che sta per finire One Piece perché se no la gente va in panico è quello è quello per me qua è la scammata dell'anno cioè lui è ancora convinto di chiudere il manga in tempi comunque più o meno rapidi ma non è che gli dice tra poco finito si caga addosso no tanto tranquilli c'è ancora tempo beh 4 anni eh sì 3 anni se ci pensi è tanto tempo è tanto è tantissimo pensa che l'anno scorso al Jump Festival dell'anno scorso l'autore di My Hero Academia aveva detto ci siamo sto per finire il manga probabilmente per il prossimo Jump Fest è finito e invece poi qualche mese fa sono uscito dicendo no però tutto sommato mi sto divertendo quindi questa saga finale la allungo ancora un po' quindi non finirà e poi adesso sta pure male quindi eccetera invece poi durante questo Jump Festival l'autore o l'autrice non si sa se è una lei io credo sia una lei di Jujutsu Kaisen ha proprio detto no no sta per finire un anno massimo finito e il punto diventa quello ovvero che a prescindere da quando finirà con One Piece lo devono dire per forza davvero un anno prima anche due secondo me proprio per cominciare a preparare le persone psicologicamente che sta veramente per finire vabbè ma te ne renderai conto c'è una volta che loro hanno buttato giù gli imperatori il manga di fatto è finito dice Trafalgarlo come una lei sì sì non si sa se è lui o una lei l'autore slash autrice di Jujutsu Kaisen non si sa io penso che sia una lei per il semplice motivo che i personaggi femminili li sa scrivere molto bene non sono stereotipati tipici di ecco un'eciroda le donne di ciroda sono veramente stereotipate al massimo quindi secondo me la Kutame è una lei però non si sa quindi c'è massimo riservo quindi non si sa se è una lei però ha detto che finisce fra un anno vabbè andiamo avanti l'anno prossimo sarà pubblicato anche il videogioco a cui lavoriamo da sei anni io lo compro io voglio giocare il videogioco di One Piece voglio fare le cose su Twitch con il videogioco di One Piece ci sta ci sta secondo me è una cazza è una cagata allucinante che lo sia lo sarà come lo sono stati anche gli altri però magari ho visto che è tipo un open world no non è l'open world questo o è l'altro che mi confondo l'altro era un open world dove non c'era niente in mezzo al world c'era solo Rufy che andava in mezzo questo capiamo capiamo stiamo preparando tanti eventi è un GDR è un GDR e poi il live action di One Piece di Hollywood è in fase di produzione ci stiamo dedicando alla prima stagione è stato un lavoro enorme e il più preoccupato di tutti ero proprio io ma posso dirvi che sarà grandioso Netflix noi siamo pronti Netflix Netflix quando ci chiami pure a noi eh porca miseria porca miseria noi siamo siamo pronti a svenderci assolutamente senza ritegno senza ritegno senza ritegno Netflix eccoci eccoci qua poi se non ci chiami Netflix tabula rasa distruggiamo discorsi no si scherza sotto minacce se ci inviti è bello se non ci inviti fa schifo lo distruggiamo non guarda nessuno come l'anello della noia ma non diciamo casualmente tutti quelli che ne hanno parlato bene erano tutti là da Amazon Prime a parlarne bene casualmente sarà stato un caso eh chi lo sa sarà stato un caso ma chiaramente erano tutti là quindi anche aspetta questo quindi anche noi se ci chiamano ma lei lo dicevo prima esatto vi prepariamo nel caso noi lo diciamo prima se farà schifo non vi arrabbiate se farà schifo non vi arrabbiate ma se andiamo avanti meglio 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 Netflix chiamaci pure noi Lisa come Twitter in più nel manga l'anno prossimo ci sarà uno scontro tra quella persona e quell'altra persona sta chiaramente parlando di Uta e di Tot Musica cioè la gente si è fatta i pippori mentali scusami la gente si è fatta i pippori mentali Shanks e Barba Nera l'ho vista come ti ho detto il tuo video l'ho vista è Uta contro Tot Musica cioè è palese che sia così di nuovo le match le match io mi immagino 10 capitoli di battaglia musicale ultra scammosissima fa il flashback di Uta e fa il combattimento Uta contro Tot Musica è la più grande scammata di tutti stiamo andando proprio in quella direzione ok o chissà magari che cazzo se dovessi descrivere il tutto con una parola direi che ci sarà una grande battle royale spero che nessuno muoche non ci crede manco lui quando dice questo spero che nessuno muoia sottotiniamo ma perché è morto qualcuno in One Piece è morto ma non mi risulta vi prego continuate a seguire One Piece anche nel prossimo anno che gli devi dire cioè io ho letto commenti diversi dicono ah potrebbe essere quello potrebbe essere quell'altro potrebbe essere Dragon contro him io spero che sia il rosso contro il nero ma perché è una battaglia che chiaramente ci portiamo dietro da diversi anni ma potrebbe anche essere mio contro Zoro per quanto ne sappiamo potrebbe essere boh tutto potrebbe essere tutto è vaghissimo però con l'idea della battle royale che quindi è un tutti contro tutti mi piacerebbe che fosse le due ciurme il ciurme del nero e il ciurme del rosso che si fanno vedere veramente di che parte sono fatti le ciurme di due imperatori di quei cazzi in più vecchie maniere lo sai cosa adesso ti ronato voglio fare proprio un minuto di serietà non me ne frega un cazzo e invece a me sì perché no perché sono quelle dichiarazioni ah beh sì no io dico proprio non che non me ne frega un cazzo nel caso dovesse accadere quello che dici tu e ormai leggere queste cose ogni anno sono talmente autoreferenziali lascia il tempo che trova per cui veramente lasciano il tempo che trovano e quindi cioè leggo questa roba nel manga l'anno prossimo ci sarà uno scontro da questa persona e un'altra persona ci sarà è meglio che non dici niente è meglio se questa roba non la metti fai tutto il recappore quest'anno abbiamo fatto questo 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 e questo sì sì è vero basta grazie per seguire One Piece sono più contento cioè ormai ormai è anche lui vittima di se stesso e cioè il fatto che abbia detto sono il più grande stronzo in tutti i tempi il migliore la più grande star del mondo o qualcosa del genere che poi è anche vera questa cosa però boh ammetto che non mi mette il minimo hype una cosa cioè sapendo una cosa del genere non me ne frega assolutamente niente sì 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 chiaro chiaro anche perché cosa potrebbe succedere magari arrivi l'anno prossimo dicembre non è ancora successo niente perché poi si è dilungato assolutamente alla fine della mossa di Shanks che è arrivata tipo un anno e mezzo più tardi sì ma infatti cioè per il tuo esfizio e voglio leggere con te e con tutti di voi il commento di Oda al Jump Festa dell'anno scorso vediamo quindi allora noi adesso sappiamo che quello che è successo nel 2022 immaginatevi tutto One Piece del 2022 vediamo Oda cosa diceva l'anno scorso vediamo se ci troviamo il 2022 cosa è successo praticamente gli ultimi combattimenti di Onigashima Nika e a fine di Wano e Ged a fine di Wano i cinque imperatori la cross guild e Ged barba nera contro l'O barba nera sull'isola delle amazzoni perfetto e vediamo Oda cosa diceva l'anno per capire salve a tutti e salve a chi è venuto alla jump festa e a chi sta guardando da casa sono Oda quello che utilizza la tecnica delle spalle bloccate e del dolore alla schiena tipicamente di Togashi quello che sta per terminare è stato un anno pieno di traguardi il capitolo 1000 del manga il volume 100 e poi l'episodio 1000 dell'anime spero vi siano piaciuti vi sono piaciuti no? abbiamo anche fatto alcuni annunci è stato svelato il cast dell'evection di Hollywood ed è perfetto quei cinque ragazzi cioè immagino dopo un anno stanno ancora avuti a cavo ancora non hanno fatto un cazzo ancora non è uscito manco un trailer schifoso quei cinque ragazzi sono davvero bravi la produzione stanno andando avanti con calma e attenzione e poi il film Red su chi sarà incentrato Shanks o Luffy Shanks è un personaggio un po' misterioso qual è il suo rapporto con le donne scontrerà Luffy è la prima volta che Shanks appare in un film non si vede manco per sbaglio si vede 30 secondi c'è c'è parlato di lì per caso nel film non vedo l'ora neanche noi infatti non l'abbiamo visto io ricordo ancora i commenti ma io pensavo che fosse Red e quindi era un film sul rosso quanti l'hanno scritto ma secondo me anche qui io era ancora convinto che fosse film su Shanks poi gli hanno dato la sceneggiatura oppure lui ha detto ma dove è Shanks in tutto questo non c'è un saluto all'amico Enrico che lavora a Toei che nel caso ci sente ci dà una pugnalata nel cuore so che non dovrei fare annunci sentiamo ma è un'opera mia quindi decido io cioè io so che non siete un cazzo il prossimo sarà il venticinquesimo anno del manga chi deve sta già preparando le celebrazioni per l'anniversario divertitevi per quanto riguarda la storia principale sono anch'io sorpreso che Wano non sia ancora terminata bene ma Luffy prestate molta attenzione nel personaggio principale spero di poter disegnare come si deve e poi l'ultima scena di Wano del regno no beh quella era variata di Wano di Wano l'ultima scena di Wano che voglio disegnare da tanto tempo l'ultima scena quale è stata fine quella era l'ultima scena esatto ah One Piece sarà veramente eccitante il prossimo anno non vedo l'ora di ricevere il vostro supporto abbiamo capito che non era vero un cazzo bene e quindi immaginatevi l'ultima scena di Wano è proprio un sugo che appende la bandiera e si chiude il sipario eh non l'abbiamo mai vista infatti cioè lui con la bandiera sarebbe stato bello vedere lui con la bandiera eh sì vedere la scena con la bandiera sopra il palazzo era molto fico e invece no e invece no e invece no e invece e invece pigliatevela in der post ma per quello siamo molto contenti di cosa che ce lo siamo presi quel posto ah pensavo che è finita Wano no vabbè anche che è finita Wano e ti faccio una domanda e poi apriamo l'angolo del domandone e non leggiamo quello dell'anno prima no basta mi sono dai 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 io sono curioso voglio leggere la leggenda dormiente aspetta lo vado a recuperare perché ha fatto tanto ma c'è un 31 dai va bene allora eccolo qua scammare Yamato non vedevo allora questa è quella del 2020 quindi vediamo Oda cosa diceva nel 2020 sempre grazie amici onepiece.it per grazie toskiter ecco il messaggio di Oda per tutti noi alle persone che guardano la jump festa ciao è stato davvero un anno difficile credo che ci siano state molte persone fortemente colpite dal coronavirus voglio fare un applauso ai tanti lavoratori del settore che stanno ancora portando spirito a tutti in una situazione caotica come questa che stanno purtroppo è andata così riguardo al jump dimon slayer è stato fantastico ha salvato emotivamente molte persone ha portato loro gioia soprattutto all'autrice davvero impressionante ecco come dovrebbe essere il manga in qualche modo anche io ero commosso cioè secondo me era commosso tanto che faceva schifo il finale di dimon slayer che era una roba proprio inqualificabile ora parliamo dal palco di onepiece alla jump festa onepiece arriverà presto al capitolo mille quando questo messaggio verrà letto avrò già finito il capitolo mille e sarò in viaggio per incontrare il cast o è quello che sarebbe successo adesso non posso andare che peccato vecchi uomini e donne sul palco no 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 aspetta vecchi e giovani donne sul palco state bene comunque anche se non posso venire ho comunque finito il capitolo mille è buono? va bene il capitolo mille uscirà sul primo numero del prossimo anno che tempismo per favore attendetelo con ansia c'è tutta una serie di progetti in corso per le celebrazioni del capitolo mille e queste riscalderanno un nuovo anno poi nel 2021 avremo un altro anno speciale con il volume 100 cioè dice sempre le stesse puttanate se ci pensi riguardo poi arriva alla fine riguardo alla storia del manga come nuova informazione quella persona si muoverà un po' no stiamo sempre a buono guni l'uomo dai capelli rossi cioè fondamentalmente lui pensava nel 2021 di fare questa roba qua eh sì di chiudere one invece manca poco cazzo cioè è arrivato un anno e mezzo dopo eh sì un anno e mezzo dopo è arrivato un anno e mezzo dopo come al solito la storia sta andando verso la sua fine e poi quella per favore prenditi il tuo tempo e goditi anche il prossimo anno che è quello che ho detto quest'anno quello che dice tutti gli anni fondamentalmente lei dice secondo me c'ha secondo me c'ha i preset fatti come i video no c'ha i preset fatti e poi ogni anno incrociano le cose da dire quest'anno quest'anno cosa diciamo quest'anno diciamo più o meno le stesse cose che abbiamo detto nel 2015 tanto nessuno se lo ricorda cambiamo giusto qualche parola non le fa lui non le fa lui che non le fa lui lo sappiamo pure Naito e gli altri stanno lì e montano le cose meraviglioso meraviglioso mannaggia la morte e comunque vabbè dice il nostro amico Bradivo che palla penso che ora si sia rotti i coglioni di dover dire ogni volta quanto manca anche perché glielo chiederanno in ogni modo ti ricordi che avevano fatto il veto su sta cosa ce l'aveva detto sì 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 perché noi quando gli abbiamo scritto l'anno scorso per fare poi la live a marzo era una delle domande una delle domande diciamo ma per il trentennale finisce e la risposta diciamo implicita di Mami è a questa domanda non rispondiamo è proprio diventato un segreto solo Oda ogni tanto può dire ma Oda nell'intervista a Kuoyama ha detto sì io vorrei finire entro tre anni ma ogni volta ho detto quando finisce poi mi sono allargato quindi è meglio che non lo dico più manco io ma anche con questa dichiarazione del jump test per quanto possa valere alla fine cioè lì si diverte ma certo è il suo spasso cioè lui cerca di tirarlo al più lungo possibile perché lo sa anche lui che appena finisce finisce anche per lui e lui non vuole eh sì eh sì 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 quindi più dura più noi stiamo qua a raccontarvelo ah chiaramente quello sì 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 perché io mi sono rotti i coglioni io diciamo egoisticamente ma sul serio lo dico spero che davvero arrivi a mille e due e lo chiuda quindi veramente tre o quattro anni al massimo ma non peraltro adesso dirò una cosa impopolare ma io non voglio arrivare a 45 anni ancora a fai video su One Piece il venerdì ma non perché non mi diverte la cosa eh ma perché credo che oltre un certo limite si diventa anche un po' ridicoli quindi se ce la fai entro quattro anni siamo tranquilli oltre comincio a sentirmi anche io in difetto lo dico senza problemi quindi capiamo vediamo questa cosa non lo so dice Pierluci di Natale in One Piece Unlimited Cruise gioco per Wii uscita nel 2008 si parla di un'antica civiltà capace di trasformare le idee in energia spoiler spoiler pensaci pensaci quindi sono confermato 41 ore no a parte che no no adesso no non è ancora 40 no fra due anni due anni sono 40 40 ancora siamo ancora nei 30 manca ancora due anni fra due anni sono 40 quindi vorrei arrivare non vorrei arrivare a 45 anni ancora presto a One Piece diciamo che tempo limite 42 però e basta non ce la faccio più neanche io ma proprio perché secondo me arrivo tipo il venerdì sera che mi piocco per fare il report già adesso con la flevo e il catetere sì sì ma già adesso comincio a far fatica con gli orari non vorrei arrivare a quell'età ancora ma non per di nuovo non perché non mi piace perché secondo me poi con la barba bianca capelli bianchi vabbè ho fatto un dissing al povero Kirio questo che è giovane ma è bianco ciao Maurizio ti vogliamo bene lui dice di sì per me lui ha in mente qualcosa e poi ci sta ci sta girando intorno la forza di cose cioè la fine è normale penso che narrativamente parlando se scrivi un libro devi avere necessariamente in mente il finale poi quello che ci sta in mezzo può anche cambiare perché ti rendi conto che può essere allungato ma tutto deve andare verso un obiettivo che ti sei prefigurato fino all'inizio altrimenti almeno che non ti chiami Stephen King e fa le cose a casa e il libro cazzo lo dice lui non è che lo dico io scrive libero ho questa idea ma si metto a scrivere più o meno un finale ci arrivo quindi a meno che non sei Stephen King vediamo piuttosto è possibile che poi si prenda una lunga pausa di mesi 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 sì 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 tutto da un pezzo tipo 5-10 capitoli in una botta sola è successo in passato con altri mangaka sì succede ancora ma non credo sia il il modus operandi di Oda ti faccio un esempio con uno dei grandi mangaka per eccellenza ad esempio Urasawa è uno che di tanto in tanto nel corso delle sue serializzazioni anche quelle importanti di un certo peso come 20th century boys monster lo stesso Billy Bat si è preso delle lunghe pause di qualche mese proprio per fare ricerche organiche per la narrazione che avevi in mente di fare e esattamente come dici tu prima poi del finale si è preso altri 3-4 mesi per raccogliere le idee e a fare il rush finale io non penso che Oda possa fare una cosa del genere per mancanza di idee non credo che la mancanza di idee sia un suo problema non lo è mai stato anzi il contrario casomai si è visto che nel corso del mese di pausa che ha fatto era a scopo di marketing questo si è capito nel momento in cui hanno rilasciato quei capitoli esatto avrebbe avuto più senso fare una pausa fisiologica alla fine di Uonokuni che non con Aramaki che stava andando su Uono per aspettare il mese per far collimare One Piece Red il 25ennale il capitolo che rimandava 25 anni fa capito che quel mese di pausa è stato fatto per marketing non perché Oda avesse magari veramente bisogno di fare quel mese di pausa anche perché questo è un discorso che abbiamo fatto a me sembra che lui sia pazzo è pazzo di nuovo questo è un discorso che quando siamo più raccolti tra di noi è uscito fuori io racconto spesso di storie di mangaka che dopo 10-12 anni abbandonano la serialità settimanale perché fisiologicamente non ce la fanno più e parliamo di mangaka che fanno magari delle storie un po' più leggere storie sportive storie che non hanno una trama complicata complessa Oda da questo punto di vista non sta bene col cervello che continua imperterrito a fare questa roba ogni settimana a 50 anni quasi il punto è che quando arrivi a questo livello e poi per carità di nuovo con PIS è criticabile quanto volete voi non ci metto manco più bocca ormai però sfornare tre volte alla settimana tre volte al mese se togli quella settimana di pausa quella roba così comunque narrativamente di qualità altissima è pazzo cioè non c'è altra spiegazione è pazzo sì 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 è ormai uscito di senno cioè lui è è pazzo cioè non c'è non c'hai altre spiegazioni è pazzo punto non è pazzo sì 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 quindi secondo me magari è anche possibile che quando si arrivi più o meno alla grande rivelazione di One Piece Shuesha dica ok tutto il nucleo dei capitoli finali che potrebbero essere 20-30 ve li facciamo leggere dopo un mese di pausa ma non perché questo è per ritornare alla domanda non perché Oda ha bisogno di un mese di pausa per inventarsi quella cosa è per far crescere l'hype chiaro capisci rabbio qual è il il punto ormai One Piece vive di hype vive costantemente c'è tutto il capitolo è finalizzato al cliffhanger dell'ultima tavola eh sì One Piece vive gli hype e quindi ci sta cioè alla fine lui potrebbe anche fare una pausa di due mesi ma soltanto per hype e lui tanto disegna e si fa così è così è così è assolutamente così dice Natuzzo Lomone Shueisha resisterà senza One Piece ma sì la domanda fatta all'omone Shueisha no? domanda fatta all'omone Shueisha più che altro sarà interessante magari per gli addetti ai lavori capire quali saranno gli effetti della mancanza di un colosso come One Piece per il mercato del fumetto giapponese e poi Shueisha così come le altre grandi case editrici giapponesi di fumetti stanno là da più di 50 anni il loro compito è sfornare fumetti continueranno a farlo senza problemi anche perché è One Piece la cosa strana no? rispetto al normale non è il resto è One Piece che è diverso che è una cosa è od è pazzo cioè non qua abbiamo di fronte davvero uno che continua perché gli piace di fare sta cosa qua almeno cioè tutti i discorsi che magari noi possiamo aver fatto nel corso degli anni su tutti gli altri mangata conota non valgono secondo me perché non è di fronte uno come Toriyama che si rompevi i coglioni non è di fronte un autore che si sente svuotato e quindi non ce la fa più e quindi dice ok metto il punto e va a fare un culo a questo fumetto se mi viene voglia continua no questo è pazzo continua perché gli piace sì sì ma il personaggio di Vegapunk volendo lo puoi molto assimilare all'autore che è una fornace continuerebbe continuerebbe all'infinito così così eh sì 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 sarà interessante magari che questo è un discorso che esula un po' da One Piece tipo dalla serata però ora io non so voi che fumetti leggete se leggete altri fumetti al di fuori di One Piece ho scoperto che la comunità di One Piece di solito il 90% non legge altri manga al di fuori di One Piece quindi magari questo è un discorso un po' eh che può servirvi o non può servirvi ma se voi eh andate anche molto banalmente su Manga Plus adesso e andate a scorrere tutta quella che è l'offerta di Weekly Shonen Jump oggi è un'offerta estremamente variegata proprio perché a me sembra da lettore e non voglio dire da studioso di questo medium però da studioso di questo medium che Shueisha stia cercando di capire già da adesso quali possono essere i gusti del pubblico in prospettiva in previsione futura c'è una tale eterogeneità dell'offerta fumettistica di Weekly Shonen Jump che io mi stupisco anche della presenza di alcuni manga su Weekly Shonen Jump uno su tutti quello di Taizan 5 dei cinosi Family Deadly Sins è un fumetto che con Weekly Shonen Jump fino a qualche anno fa probabilmente io non l'avrei mai visto su Weekly Shonen Jump una roba del genere e invece adesso c'è ci sono tanti fumetti estremamente sperimentali proprio perché evidentemente e anche molto adulti sotto un certo punto di vista proprio perché evidentemente Weekly Shonen Jump sta cercando di capire ok quando finisce One Piece che cazzo li facciamo leggere a questi qua sperimentiamo adesso esatto ci prepariamo per tempo per capire che cosa dovrà poi mangiare il pubblico quando One Piece non ci sarà più Dandada non è su Shonen Jump dico che l'amico Simup non è su Shonen Jump però comunque è anche quello un fumetto estremamente sperimentale allo stesso modo la roba comunque che è uscita fuori ecco no ne parliamo di Oda che deve pubblicare una volta a settimana per esempio Fujimoto non ce la fa Fujimoto l'autore di Chainsaw Man si è fatto spostare da Weekly Shonen Jump a Jump Plus perché non ce la faceva più a fare un fumetto settimanale e adesso esce una volta ogni due settimane ogni due bambi settimana esce una volta perché non ce la faceva più a farlo una volta alla settimana Oda è pazzo cioè non c'è o a me non c'è non c'è più altra spiegazione lo fa perché è pazzo punto eh ma se se le storie che gli chintinano attorno e il fatto che dorma due ore potrebbero essere comunque dettate dalla sua pazzia anche Gosho Oyama e lui l'ha raccontato bene l'autore di Conan ma lui fa il caso che dura tre capitoli poi va un mese in pausa e così a tempo per fare per pensare un'altra cosa per stare appresso a altre cose neanche lui ce la fa cioè non non ce la fai lui sì quindi di nuovo è pazzo basta non ci sono altre spiegazioni non è non è umano non è umano vero barba nera non dormi sì hai obiettivamente di fronte un fuoriclasse poi può piacere o non piacere One Piece però questo è un discorso molto interessante perché ti fa capire che da lì c'è uno a cui non gliene frega niente tranne la sua opera cioè la sua pazzia e la sua genialità alla fine noi diciamo tante volte anche per ridere boh da genio e mia genio ma la sua genialità sta appunto nel suo essere come un martello da 25 anni e lui è lì cioè ricordiamo di nuovo quella volta che si è ammalato e finito in ospedale durante Adels Rosa e cosa è andato a trovarlo l'autore di Naruto era lui era là che disegnava sul lettino dell'ospedale cioè una persona normale non le fa queste cose no ma anche il fatto che secondo me si raggiungono anche livelli un po' lo dico in senso cioè non estremamente ne capirà un po' a livello autistico 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 ce l'hai perché ma anche se tieni conto delle cose che lui racconta spesso sempre in un'intervista proprio con Kishimoto l'autore di Naruto lui diceva boh io quando parlo con la gente e a me mi sembra una perdita di tempo perché dopo 5 minuti quello che loro dicono non mi interessa perché devo pensare One Piece che è folle capisci perché lui non vuol fermarsi più perché quando si fermerà lui impazzisce a me lui da poco che cosa fa quando finisce no lui è come i vecchietti che se non gli fai più lavorare vanno in depressione e muoiono esatto esatto e incredibile ecco no vedi ne abbiamo parlato prima anche Trafalgarlo lo dice l'autore e l'autrice di Jujutsu Kaisen ha detto per l'anno prossimo basta finito non vuol sapere più niente tanti soldi se li fatti anche questo è un discorso magari noi dovremmo parlare un attimo di One Piece ma anche questi sono discorsi che ci possono entrare l'autore dell'attacco dei giganti Isayama con le sue terme incredibili non so se lo sai che cosa ha detto non so se già te l'ho detto sì sì me l'avevi raccontato fatto per i soldi sì quando gli hanno chiesto qual è stata la parte più divertente di fare l'attacco dei giganti la sua risposta i soldi e adesso quando farà il nuovo fumetto no non lo faccio un altro fumetto non mi frega niente i soldi ce li ho questa è stata la sua risposta onesto onestissimo che gli vuoi dire quindi me lui dà proprio l'impressione di essere un pazzo furioso lo fa perché per la gloria però non diventi il più grande fumettista vivente oggi è così ragazzi scherzandoci quantomeno del del giappone lui in tutto il mondo è tra i più grandi fumettisti viventi operanti se non è quella mentalità non ci arrivi non lo fai comunque ringrazio 5 anni eh no comunque ringrazio Psycho Dark Matt Naga 92 grazie a Mr. Paolo Easy Cranio Frantumato e Holiday 977 ripropongo uno spunto di riflessioni già esposte in precedenza in altre live vedendo le dichiarazioni di Oda del Jump Fest del 2022 ci sta a fare tutti sti complimenti a Oda ma per me è sempre un problema sul fatto che non sanno fare un finale decente per un manga ho molta paura del finale di One Piece paura che aumenta leggendo queste dichiarazioni che sia impazzito è vero ma spero non finisca in Super Castle alla fine io non ho l'esperienza per raccontare di finale cioè io i pochi finali che ho visto io ho letto manga molto brevi autoconclusivi manga lungo che ho letto è Dragon Ball comunque non è che finisca male secondo me come finisce lo Z va anche bene con Lava Via Allena Hub che è la reincarnazione di Majin Bu e a posto così poi adesso con il Super non ci entro dentro nemmeno perché tanto non lo leggo quindi non lo so so che Naruto non è piaciuto ad alcuni a tanti è piaciuto ad altri no lì c'è una no idea di come sia finito onestamente Hunter Hunter ha ripreso dato avanti però il finale comunque sembra essere più o meno piaciuto che ha trovato il suo papà però ecco non ho l'esperienza per parlare di questo tu sicuramente si allora prima rispondo un attimo questo mi fa farlo ridere voglio fare una provocazione cattivissima se dovessi fare quello che faccio per i soldi farei altro ma ragazzi non torniamoci chiaro fai video su youtube per carità non è che non ti porta soldi perché poi se lavori bene te li porta ma non è che ti fai miliardi quindi magari ci monigrabassimo sul serio per bene a voglia dopo me ne andrei in pensione invece come sa Gabriele a Gabriele a Tosti gliel'ho detto qual è il mio proposito di vita allora gliel'ho detto e quindi a me mi aspettano anni veramente molto gravi di lavoro sudore 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 per due spiccioli ma va bene lo faccio volentieri ma scherzi a parte sul finale di One Piece la domanda del nostro amico è una cosa che esce fuori sempre fuori tantissime volte ho paura di come possa essere il finale ho paura che sia una cosa terrificante tenendo conto di quello che solitamente è la storia del fumetto giapponese è un discorso lungo molto e ci vorrebbe una live intera per declinarlo bene quindi mi prendo 60 secondi per cercare di utilizzare a me sembra che tenendo conto proprio di quelle che sono le dichiarazioni fuffa di Eciroda lui un'idea ben precisa di dove andare a parare con il suo fumetto vuoi o non vuoi ce l'ha chiaramente nel corso degli anni evidentemente ha cambiato molte cose per far comunque combaciare tutto quello che lui ha mostrato nel corso degli anni ha aggiunto una marea di personaggi e situazioni che non erano presenti ma lui ha sempre detto io ho un'idea ho cambiato magari il modo in cui ci si arriva ma quando ci arriviamo quella è sin da lì sin da quando io ho iniziato questo fumetto va bene è verissimo come diceva il nostro amico Nier se teniamo conto di quello che è il fumetto mainstream per ragazzi molte volte più che il finale in sé ha contato davvero il viaggio se penso ai grandi fumetti di mazzate classici come possono essere già citato Dragon Ball uno degli spettri e i cavalieri dello Zodiaco o anche magari casi un po' più recenti come Demon Slayer faccio proprio una roba mainstream che è finita da poco non hanno dei finali eccezionali la cosa più interessante è stato vedere il suo prosieguo così come ci sono però magari alcuni manga che hanno dei finali incredibili penso al finale di Devilman penso al finale di Slam Dunk penso al finale di Touch ci sono dei manga che quando l'autore aveva un'idea molto forte quell'idea molto forte uscita bene nel finale tanto da rendere il finale un'esperienza incredibile io penso ma di nuovo questo è il mio pensiero finale di Rocky Joe è iconico per carità e su quello c'è tanto da dire perché fondamentalmente Ikki Kajiwara non voleva neanche che finisse così e quindi lì c'è stata una discussione tra sceneggiatore e disegnatore che ha portato poi a quel finale però per quanto riguarda One Piece io sono mediamente convinto che è forse uno dei pochi fumetti che una casa editrice non può permettersi di sbagliare sul finale proprio perché hanno gli occhi del mondo puntati qua ormai si va oltre la discussione si noi pubblichiamo unicamente per un pubblico giapponese ragazzi vogliamoci chiaro One Piece è un fenomeno mondiale non vale più questa cosa non vale più per One Piece non vale quindi io mi rendo conto che in casa Shuesha sanno che il finale di One Piece non lo possono sbagliare e Shiroda sa che il finale di One Piece non può essere una scammata anche se il One Piece sarà una scammata mettetelo bene in testa sin d'ora all'after ci sarà una delle più grandi scammate della storia della non arte non vi triggerate quando quelli andranno là e troveranno una delle più grandi scammate di tutti i tempi è già scritto già lo sai che è così ma su tutta la parte finale sul finale io sono certo che uscirà fuori una roba bella magari dividerà ecco senza spoilerare il re che se lo sta leggendo adesso il finale dell'attacco di Giganti è stato meraviglioso una delle cose più belle che abbia letto ultimamente negli ultimi anni quantomeno in piena regola con tutto quello che Isayama ha raccontato e Isayama a un certo punto lui aveva un'altra idea e poi lui disse no ho cambiato idea la voglio fare in un altro modo e tutto sommato è riuscito a fare un gran bel finale secondo me sono convinto che One Piece sarà la stessa cosa quindi vediamo poi se uscirà fuori una roba brutta saremmo i primi a dirlo ma non vi triggerate su Lafte tanto sarà una scammata noi ve lo stiamo dicendo da anni all'Afte ci sarà la più grande scammata della storia del fuoco sì sì chiaro 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 ma è evidente non vi triggerate perché quello è già scritto che è una scammata il nome parla chiaro il nome parla chiaro Roger lo dice cioè lo dice proprio come lo chiamiamo chiamano la barzelletta perché ci hanno proprio triggerato alla grande cioè il punto è quello quello arriva e si mettono a ridere vediamo per non piangere e che cazzo dovrò fare cioè quelli cercavano il tesoro più grande di tutti i tempi si sono imbattuti in una scammata cioè è già scritta questa cosa vedremo capiamo vediamo dato che ormai sicuramente la storia di Nika non era prevista dall'inizio come fa a riunire una cosa così importante con un finale che secondo lui invece aveva pensato in partenza non c'enterà niente col finale cioè fa parte del discorso ma non c'enterà col finale che ha in mente cioè il finale vuol dire tutto e niente potrebbe dire anche semplicemente come chiude tutto cioè anche che Rufi è morto e c'è l'ultimo dei compagni che racconta la storia per dirti qual'altro potrebbe essere il finale che lui ha in mente non vuol dire che come arriva al finale l'avesse già in mente eh sì anche perché è chiaro che la questione di Nika è uscita fuori adesso quello credo che sia abbastanza di nuovo la palissiana in virtù di tutte le cose che abbiamo sempre detto vediamo come se la giocherà d'ora in poi vediamo capiamo finale già spoilerato da un fan made anni fa non lo so beh se quello della red line distrutta lì ma va c'è l'acqua l'accoglato di Arthur che c'è Shebek che Im c'è il potere dell'acqua e non la conosco questa storia perché non l'hai mai voluto leggere il grande manga incredibile ah quella roba lì no 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 grazie no grazie no grazie no grazie no grazie dice sempre lì ma come fa a non entrarci col finale se ruffi il protagonista assoluto del manga è tutto ruoto intorno al suo sogno ma qual è il suo sogno però il punto è questo qual è il suo sogno e mica è soltanto un mezzo a questo punto eh sì vedremo cioè ma non voglio monopolizzare la serata Oda è sempre stato un grande fan di Toriyama ha sempre detto che lui voleva assolutamente pubblicare su Weekly Shonen Jump unicamente che c'era Dragon Ball e non gli interessavano altri magazine perché a lui interessava solo pubblicare sullo stesso eh magazine di Dragon Ball eh Ruffi che si trasforma in Gear 5 è il Super Saiyan cioè non è proprio il Super Saiyan è quella roba lì e noi sappiamo che pure la faccenda del Super Saiyan Toriyama a un certo punto era tirata fuori dal cilindro eh tipo 40 capitoli prima che accadesse no eh l'aveva ripresa perché c'era quella frase di Nappa che sentendo Radish che veniva preso a capocciate da Gohan diceva ma quello ma quindi se se incrociamo i Saiyan con i terrestri escono fuori dei Saiyan potenti escono fuori Super Saiyan allora lui poi si è ricordato questa cosa è interessante questa cosa adesso magari l'approfondisco la faccio veramente nel manga e poi l'ha fatto è la stessa cosa cioè la faccenda di Nika no cioè indovina chi che parla di Nika 20 capitoli dopo ti esce fuori Nika che è Super Saiyan di Toriyama e di Oda e con questo come ci va a incastrare nel finale e vedremo perché poi tutta la faccenda di Joy Boy che lui se la fosse ben congeniata quella è evidente Joy Boy è un personaggio che ci portiamo avanti da una marea di tempo da Fishman Island il fatto che Rufy e Roger parlano allo stesso modo questa è una cosa che ci portiamo avanti sin dall'inizio del manga alla fine basta poco per arricchire la tua storia in questo modo certo quindi vedrei cioè per come l'ha messa giù nulla ti ti può far pensare ok alla fine Joy Boy sì era quello che lui si era mangiato il gom gom anche lui si trasformava in Nika solo che non è riuscito a unificare i popoli con la risata boh Rufy ci riesce ecco qua fatto è fatta vedremo vedremo eh sì che cosa aspettare eh sì tanto si sprecano le le opzioni quindi ah sì assolutamente assolutamente vi posso dire una cosa io aspetto la top totale tombale su One Piece finito più di quanto aspetto di trovare lavoro e famiglia e ne approfittiamo per dire approfitto adesso per dire che venerdì vai e abbiamo deciso di fare una cosa dato che il 1070 è l'ultimo capitolo dell'anno poi probabilmente dopo Natale esce il capitolo che sarà il primo capitolo del 2023 esce prima probabilmente esce dopo Natale però poiché è l'ultimo capitolo dell'anno ufficiale il 1070 la Blind questa settimana non sarà né alle 14.30 orario solito di Gabriele né alle 16 orario mio né alle 17 orario di Toschi ma sarà alle 15 a reti unificate quindi se venite su Twitch trovate me Toschi se andate su Youtube ci starremo ma la facciamo insieme quindi ce lo leggiamo insieme il capitolo e così festeggiamoci diamo gli auguri siamo tutti contenti felici eccetera non faremo vedere le tavole ve lo diciamo già in anticipo perché se no arriva Shuesha strike al canale del re subito non ci sembra il caso quindi voi state là col cellulare ma la facciamo insieme quindi siamo tutti felici contenti ci facciamo poi una chiacchierata urliamo e per scherzo diciamo cose urliamo esatto e poi io vado in letargo esattamente come dicono in chat ci vediamo direttamente il 9 di gennaio quindi giudia la sala cinesca si faccio solo una live nel caso in cui dovesse uscire il capitolo dopo natale uscirà sicuro esatto leggo quello e poi solo quello e basta ci vediamo direttamente il 9 di gennaio devo staccare la stila vi odio tutti in questo momento no vi voglio bene ma vi odio vediamo questo è per te non do potrebbe più che altro se ci passa lo fa per noi ma in teoria non gli serve ha già tutto quello che deve sapere quindi a lui non serve passare se lo fa lo fa vedere a noi in qualche modo capiamo oh e dipende dove sta la fteila anche no se devono passare da lì se devono se da tutt'altra parte non lo so vediamo vedremo io ne approfitto e ringrazio papaya show grazie a dartle 94 grazie a il marduk che dice sommo il re non preferireste capitoli lunghi il doppio ma ogni due settimane per il finale no lo dico spassionatamente non so Gabriele no e grazie a nier n3 che dice sempre piacevole parlare con voi il one piece journal per farvi capire grazie e grazie a marco p3103 per l'abbonamento vediamo e poi per dieci giorni ci saranno video da risate di 20 secondi mandati in loop per dieci minuti il titolo sarà rivelato al mistero che nasconde la verità allora questo me lo scrivo ma cazzo questo è potentissimo grazie moncref aspetta ho fatto ho fatto ho fatto lo screenshot e lo passo su grazie ma è chiaro vi giuro che lo faccio questo è il titolo cioè avremo il video con lo stesso definito no allora facciamo una cosa lo facciamo si facciamo una compilation di mette che ridiamo le fondiamo e poi le mandiamo tutte e due sullo stesso canale cioè sui nostri canali si 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 no esatto esatto esattamente quindi grazie a moncref per questa idea meravigliosa vediamo preferireste Oda che tiene sotto controllo la sua salute e alza la qualità delle tavole pubblicando uno due capitoli al mese concludendo in dieci anni Oda attuale conclude in cinque no no lavora lavora vecchiaccia comunque c'è da dire che ormai è diventata una leggenda metropolitana che Oda disegna male ma andatevi a leggere l'ultimo capitolo quello disegnato male evidentemente non avete mai letto niente in vita vostra vi disegnato male lo so che Luca Matteo ti manda un bacio ti voglio bene ma Oda in realtà quando vai a prendere i volumi si può di tutto tranne che disegna male magari possiamo lamentarci di come sistema alcune vignette all'interno della tavola della scelta della gabbia quello sì quello lo possiamo anche criticare ma sui disegni gli ultimi capitoli sono stratosferici c'è niente da dire eh sì quindi poi se dobbiamo parlare pub parli parliamone ma in realtà disegna continua a disegnare comunque bene ha cambiato tratto rispetto a 15-20 anni fa chiaro deve anche ottimizzare lo spazio che ha una volta come vi ho detto le volte aveva lasciava più spazio al bianco al pulito adesso ci infila dentro tanto sfondo per anche contestualizzare quello che succede chiaro però ecco non è che disegna male chiaro chiarissimo eh sì vabbè disegna male porca troia disegna male disegna male disegna male disegnare disegna male disegna male disegna male disegna male ma perché adesso che continuerai vedrai che migliorerà un sacco disegna male tantissimo vediamo e arriva alla fine e disegna veramente in maniera meravigliosa anche perché a un certo punto evidentemente si sono resi conto in casa a Kodansha e dice senti Sayama c'è una storia pazzesca però effettivamente te disegni con le mani fucilate ma vuoi fare qualcosa e lui sa che cosa ha cominciato a fare ha cominciato a ricalcare i disegni dei combattimenti di Yajimeno Ippo tanto che sono stratosferici i disegni di combattimento di Yajimeno Ippo e con quello ha cominciato a disegnare anche lui pian piano tant'è vero che tu sei arrivato al volume 5 adesso vedrai se arrivi intorno al volume 6-7 ci sono delle scene di combattimento molto belle c'è una scena di combattimento sembra una roba di wrestling intorno al volume 11-12 e poi più andrà avanti più Isayama trova un suo tratto particolare che è super riconoscibilissimo perché è suo ma le scene di combattimento sono disegnate molto bene il finale dell'attacco ai giganti sfido chiunque a dire che è disegnato male secondo me rifatevi gli occhi e poi veramente non avete mai letto di qualcosa di disegnato male i primi volumi sono disegnati in a chiavica quello è vero però poi lui migliora tantissimo arriva alla fine ci sono delle tavole veramente stratosferiche sfido chiunque a dire il contrario soprattutto se le vedete da vicino sono meravigliose per quanto riguarda One disegna bene altro che Oda chi è One? One è quello di One è come? il pupazzo One di Italia 1 no One è l'autore di One Punch Man ah ok che disegna il webcomic in questa maniera terrificante sì 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 ma lo fa apposta basta già leggere Mob Psycho per capire che in realtà lì quando vuole disegna anche abbastanza benino poi c'è Murata che le rifà da capo e quindi è un altro discorso vediamo 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 vabbè ma stanno parlando dell'attacco dei giganti ma io non sto leggendo l'attacco Titan da due anni che cazzo state dicendo Angelo mi ha regalato l'attacco dei giganti al mio compleanno maggio di quest'anno mi ha regalato dieci volumetti ho cominciato quando è stato cominciato a reggiucchiarlo non so prima estate no ero in live quando c'era il mese di pausa di One Piece ecco il mese di pausa che è stato ad agosto giusto ho letto tre volumi mi sono rotto le madonne perché i primi quattro volumi sono terrificanti adesso mi sono ripreso il quarto ma lo sono letto adesso sto leggendo cinque questo è quindi non sono due anni anche meno anche meno secondo me il re è andato in antipatia con la gente ha detto che si doveva leggere l'attacco dei giganti non ne parla più nessuno gli sta piacendo esatto ma io così funziono non mi dovete rompere il cazzo sì in realtà l'attacco dei giganti è un fumetto secondo me e poi ritorniamo su One Piece che funziona molto bene per chi comunque ha già un gran background di lettura alle spalle ma non perché voglio fare il fenomeno io perché effettivamente quando leggi il primo volume e lo compari magari a tutta una sequela di o Battle Manga oppure di Shonen che hai letto e riletto è una cosa totalmente diversa arriva alla fine il primo volume e il protagonista muore no viene mangiato dite che è spoiler ragazzi non cacate il cazzo il primo volume finisce così lo sanno tutti tanto e tu dici oddio ma che è sta roba ma come il protagonista è morto e quindi tu rimani così dici ma il primo volume oddio mannaggia la morte ma che cosa succede poi inizia inizia il secondo volume il terzo volume secondo me c'è quel discorso meraviglioso di Pixis fantastico chi è anzi il vecchio il tisi il vecchio il pelato e poi il quarto è un volume che in realtà dal punto di vista come dire temporale hanno fatto bene quelli del cartone animato a metterlo quasi subito si infatti per un attimo c'è un cazzo poi ho capito che è tornato indietro però non cambia il colore dietro non c'è il nero come 1p quindi è sempre bianco esatto ma che cazzo che cosa è sta non capivo il quarto volume messo lì così è un po' un what the fuck però dal mio punto di vista sempre è un'ottima operazione narrativa perché Isayama fondamentalmente riprende Heinlein in tutto quello che è fanteria dello spazio è fanteria dello spazio non so se ti ho mai letto fanteria dello spazio ma è fanteria ha mai visto il film Starship Troopers no io conosco soltanto la canzone che si chiama così vabbè c'è questo fumetto di fumetto di il romanzo di fantascienza è uno dei romanzi di fantascienza più importanti del novecento che si chiama fanteria dello spazio dove c'è un gruppo di ragazzi che viene addestrato anche all'utilizzo di questa come possiamo chiamarla armatura meccanica diciamo così una sorta di mecca perché loro devono andare nello spazio a uccidere gli alieni che stanno tenendo sotto scacco il loro pianeta e in realtà la maggior parte del volume è tutto l'addestramento dei ragazzi è tutto l'addestramento dei ragazzi e tutto quello che tu leggi nel volume 4 dell'attacco dei giganti è tutto preso paro paro da fantascienza dello spazio solo declinato nel mondo dell'attacco dei giganti e quindi quello è molto interessante come diciamo come copia come rubacchiamento c'è il quinto volume c'è quella roba lì e poi da lì parte effettivamente l'attacco dei giganti diventa una storia interessantissima secondo me e poi ci saprei dire bene vediamo vabbè scusate tanto che cazzo c'è da dire aspettiamo noi sì 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 username tipico dice sappi che io pure funziono con la te tutti mi rompono con sto one piece a me sta pesantemente sul cazzo quando il sommo smetterà di parlarne allora me lo recupererò e probabilmente lo metterò l'anolimpo di manga totali tombali come dice qualche professore del liceo che il sommo ha intervistato voglio un chainsaw man dip un berserk dip ogni volta che esce un capitolo passate al lato oscuro io chainsaw man non li ho ancora letti i nuovi capitoli ma penso che non lo leggerò chainsaw man aspetto che finisce la seconda parte e me lo leggo tutto per me non funziona chainsaw man a capitoli settimanali non dico questa cosa cattiva è lento? è lento? no è uno di quei fumetti che molto belli la prima parte di chainsaw man è un capolavoro per me è veramente fuori di testa però capitoli settimanali non si può leggere perché su quei fumetti strani quindi avere il compito sì sì Fujimoto è un genio secondo me le cose migliori sono i suoi one shot più che la serie lunga adesso ce l'ho qua dietro sponsor stack of stack of mi sono mappagato questa cosa questo me lo sono pure comprato questa è l'unica cosa sua che me manca fire punch e poi ho letto tutto di suo lui funziona con le storie brevi brevissime con gli one shot e chainsaw man è meraviglioso ma è meraviglioso quando te lo leggi tutto insieme quando te lo leggi capitolo dopo capitolo ti ammazzi non ce la fai e quindi io aspetto che finisca chainsaw man la seconda parte e poi me lo me lo recupero tutto berserk uguale cioè questi nuovi capitoli te li leggi ma ti leggi un capitolo ci metti 30 secondi è riassunto i nuovi capitoli di berserk non li fa manco più miura sono belli ma che cazzo c'è da dire cioè io ho letto l'ultimo capitolo ma tu non lo leggi berserk no io ho letto l'ultimo capitolo di berserk quando è uscito settimana scorsa parte che lo leggi in 10 secondi netti ma che cazzo c'è da dire c'è niente da dire il problema è che non tutti i manga ecco si sposano a una discussione come One Piece dovremmo anche farlo più o meno no ovvio certo ma One Piece ha la sua forza il fatto che tutte le settimane puoi dire qualcosa puoi raccontare qualcosa io mi ricordo capitoli di di Fairy Tail per esempio cioè che erano l'imbarazzo assoluto cioè cosa dovevi dire cosa dovevi raccontare quante minne avevi visto quante erano grosse le minne di Erza o di Lucy quello era One Piece vuoi o non vuoi anche nel capitolo in cui si picchiano riesci a parlare di qualcosa cioè io ricordo i combattimenti con Big Mom Kaido sul tetto dove si picchiavano e basta anche gli attacchi di Big Mom c'erano tutte le tecniche le tecniche che erano chiaramente citazioni a cose tra il buddismo di Kaido e Big Mom che tirava fuori le divinità e altre cose cioè ne hai da parlare se vuoi ah sì sì noi siamo noi che ci conteniamo in realtà le volte tu no vai a sprombattù io mi contengo ancora con One Piece mi contengo tantissimo se no c'è un video all'ora io altro che ma non lo voglio fare però la forza di One Piece è anche questa oltre proprio la community il fatto che Oda è sempre molto bravo proprio perché è un'inventiva gigantesca nel riuscire anche poi a far parlare i personaggi in due battute a far sci fuori un mondo altri manga o altri fumetti non ci riescono quindi cioè io capisco anche la voglia alle volte di voler provare a fare magari il lavoro che facciamo One Piece su altro io ci ho anche provato però ho visto che non funziona cioè per esempio My Hero Academy è un fumetto meraviglioso che io adoro ma non lo potevi fare la stessa cosa su ogni capitolo c'erano alcuni capitoli meravigliosi che si prestano magari a certe discussioni si prestano magari a certi discorsi ma altri sono solo mazzate si pigliano mazzate finisce lì si picchiano si picchiano che cazzo devi dire più si picchiano chiaro bo via rispondo a Giwappa dice perché sei di Brescia e dici minne perché mia moglie è siciliana e posso dire minne dove sta il problema mia nonna era di Palermo io posso dire minne dove sta il problema fantastico fantastico e quindi dire minne e sempre ne approfitto per ringraziare Marco P3103 grazie a Jayan Lantern che dice se prenderemo One Piece Odyssey penso di sì capiamo e grazie all'Eletrona per l'abbonamento e lo prendo solo se ci sono 400 persone ogni volta abbonati adesso abbonati se no non lo prendo no no per qualcosa perché se no non ha senso no ovvio cioè se devo giocare da solo gioco da solo se venite quando gioco ci gioco se no non gioco per i cazzi miei ma tanto l'anno prossimo per me io mi posso solo ma questa poi ve lo racconto l'anno prossimo vediamo parliamo di cose zozze perché ticcio può avere due poteri minne perché non dorme da dove veniamo chi siamo quando si mangia ma soprattutto i sogni aiutano a vivere o la vita è un sogno e quindi Barbanera ci entra tantissimo in questa domanda marzulliana perché può avere due poteri te lo dice Marco perché ha un corpo particolare perché non dorme perché ha un corpo particolare da dove veniamo dalle stelle chi siamo noi siamo figli delle stelle figli di Ivo Sam e di un lunariano noi siamo figli delle stelle sulla luna lì ci abbiamo l'avamposto yeah c'è Ener che torna ci siamo siamo due stronzi quando si mangia ho già mangiato tu penso che mangerai dopo credo no no ha già mangiato ha già mangiato ha già mangiato ha già mangiato ringrazio anche Bobbocop per l'abbonamento che ci saluta perché si può andare a cavallo di un cammello ma non a cammello di un cavallo perché siamo occidentali qua si andava a cavallo probabilmente in Arabia diranno a cavallo a cammello di un cavallo oh ma si bella a cavallo è sto cammello con binocola tracollo chiediamoci anche Odo ha imparato col tempo a sopravvivere settimana per settimana riuscendo a far parlare ai suoi fan di qualcosa all'inizio non era così tanto capace facciamo un discorso serio Odo è diventato più bravo e soprattutto se si in cosa i personaggi sono aumentati e sicuramente li gestisce adeguatamente ma la capacità di arrivare al focus è più incalzante e coinvolgente la grandezza di One Piece lo porta anche giustamente ad analizzarlo per archi quanto tempo abbiamo per rispondere a questa serie di domande mi dimenticherò nel momento in cui non leggiamo più allora sul fatto che lui sia diventato più bravo nel tempo ma assolutamente sì cioè come tutte le cose più progredisci più migliori in teoria no? quindi dovrebbe essere questo l'andazzo delle cose anche banalmente Roma's Dawn il resto comunque è uno dei migliori capitoli mai disegnati da Oda benché sia il primo perché lui fosse l'Oda acerbo non ancora leciroda che è adesso ma resta comunque un grandissimo primo capitolo di un manga perché funziona da Dio funziona sì e ogni volta che lo leggi come diciamo ogni volta riesci a trovare sempre qualcosa di nuovo al suo interno sì c'è anche da dire che e questo è quello di cui poi abbiamo parlato nel momento momento spottone momento spottone dove sta? dov'è? chi? l'album? figurine? no non ce l'ho vabbè se leggete il nostro saggio su Romance Dawn vi accorgete di quello ovvero di come tutto quello che è il modus operandi di Oda tutto quello che trovi in One Piece in realtà è già possibile ritrovarlo nel primo volume di One Piece quindi non solo in Romance Dawn proprio tutto il primo volume di One Piece c'è tutto il modo di narrare di Oda che trovi anche adesso nel capitolo 1069 sì solo in maniera più elaborata molto più fine proprio perché più una cosa la fai più meglio riesci a farla è indubbio che One Piece si sia trasformato nel corso del tempo da un fumetto di mere mazzate anche molto semplice sempliciotto banalotto possiamo anche dire in un qualcosa di più elaborato di più fine di più stratificato di più critico anche di più critico però è anche vero che andare a rileggere col senno di poi One Piece dal volume 1 oh vedi una stracca di robe ti fa comunque soffermare su una marea di cose anche se magari ecco non lo fai col senno di poi quando è stato un paio di settimane fa sono andato a fare una chiacchierata con questo ragazzo che si chiama Mario c'era anche caverna di ladrone perché lui si sta leggendo in questi giorni One Piece per la prima volta non l'aveva mai letto e lui è rimasto proprio diciamo sconvolto da questa ricchezza narrativa di One Piece e lui ha letto i primi 24 volumi ma anche se ti focalizzi davvero sui volumi singoli sul numero 1 sul numero 2 sul numero 3 eccetera puoi parlarne tantissimo cioè volendo un report di ogni singolo capitolo di One Piece a partire dal capitolo 1 lo puoi fare ma certo cioè banalmente il lavoro che ho fatto poi con i fact checking è quello lì cioè io prendo capitolo per capitolo trovo la cosa che si parla nel capitolo e la spolpi e ce n'è veramente tantissime poi ho cercato sempre di tenermi su un filone più narrativo più storico più mitologico per quello che mi interessa a me ma volendo se ne possono trovare veramente spaccate ma spaccate di robe ma tantissime assolutamente dopodiché essendo diventato un'epopea quindi con un sacco di personaggi con un sacco di misteri chiaramente la cosa ha fatto in modo che ecco il lettore cominciasse ad appassionarsi perché poi tutto sommato ridendo e scherzando la domanda oh ma che è il one piece ma che cosa sono quei misteri cioè lì se li porta ancora davvero da 25 anni quindi adesso è diventata anche una sfida un po' con il lettore è un gioco a cui come diciamo spesso partecipiamo tutti assolutamente ma è bello quindi vedremo grazie anche a Morgolias per l'abbonamento dice sono 30 vecchio cuore vogliamo il fact checking 40 lo sto lo sto assemblando non ancora scrivendo perché c'è veramente una sfaccata anche qua ci sono c'è tutta la roba sui kumadori che sono quei trucchi dei degli artisti kabuki quindi c'è tutto il discorso c'è tutta buchi no dai ogni tanto c'è il ghostwriter ma non diremmo mai chi è vabbè possiamo raccontare questa cosa intanto Gabriele dice ho scritto questo 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 video questo video mi dai un titolo marcio e allora io dico ma di che parla il video e dice no parla di questo gli butto là due o tre titoli marci e lui sceglie il più marcio e lo mette per la vostra già no non ci aveva chiaramente scritto tutto in mente è impossibile avere in mente una storia che va avanti da 25 anni però credo che se è vero che magari lui ha campato tanti anni magari sul momento oppure sul micro arco narrativo è vero che dal post time skip la macro trama se l'è studiata bene eh beh ma quello per forza se una volta che comunque lui ha capito che avrebbe dovuto allungare il discorso lo ha fatto e l'ha fatto bene eh sì che cosa hai visto che sghignazzavi no ha letto questa cosa qua quando c'è scritto rivelato nel titolo uno suggerito no ma non sempre però per esempio quando ci sono tipo il capitolo il 1069 tu che titolo fai eh sì sì ho scritto ma che ha fatto gli ho scritto e ho detto Gabriele ma che titolo metti al video tipo era luna di notte e lui mi ha detto il titolo e ho detto io ok allora giochiamo di sinonimi se tu metti rivelato il segreto io metto svelato il mister infatti tipo se andate a vedere i titoli del video di Gabriele del report mio è praticamente identico solo che è lo stesso identico titolo ma abbiamo usato dei sinonimi esatto bello così sì sì no ma io posso anche dispassionatamente che qua andiamo avanti anche perché c'è questa cosa qui se no non lo so se ci saremmo arrivati a questa veneranda età fa ancora sempre la fine noi siamo veramente un buddy movie ci spalleggiamo e ci teniamo su dovremmo fare la canzone di Chip e Chop eh c-c-c-c-c-c-c-pe grandi eroi c-c-c-c-pe c-c-c-pe che coglioni moni grabboni moni grabber e anche oggi non ti preoccupare arriveremo anche a questo punto capito facciamo la prima parte puntini puntini e poi ma solo se vedi anche l'altro video capisci e solo se lo scrivi in giapponese solo se lo scrivi in giapponese mannaggia l'amore vabbè questo chiede il moni grabber sarebbe una buona itestiva sì 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 ci pensiamo ci pensiamo anche a questo assolutamente ma solo se vedi il video del re sommo puoi capire la verità esatto oppure un giorno sì facciamo il video double fast tipo continua nel video del re facciamo come i crossover della marvel bravo bravo per capirli tutti dove segui tutte le testate questa può essere una bella idea per il 2023 facciamo tipo un video monografico gigantesco poi vai poi facciamo lo dividiamo tipo un video che dura un'ora lo dividiamo in spezzoni da dieci minuti metti tu il primo video e poi il secondo lo metto io il tuo video rimanda al mio che rimanda al tuo che rimanda al mio certo e quindi solo se lo metti poi c'è la scena post credit dove ti manda all'altra parte esattamente 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 domandona potresti raccontare l'epopea di come è nata la scrittura e la realizzazione di one piece journal di quattro anni fa mi sono subbato ma non riesco a condividere e di questa cosa ne abbiamo raccontato mille volte quindi non mi metto di nuovo a raccontare l'epopea non per cattiveria ma perché l'abbiamo raccontata sei mila volte e questa volta ma stiamo io non la ricordo più e va bene così assolutamente dice Gioappa dopo l'intervista Oda ti è rimasto un solo obiettivo come content creator di one piece creare la teoria definitiva con Oara in live io ricordo sempre che invitare Oara in live è l'obiettivo ultimo Manu stiamo aspettando per te Manu Manu perché non vuoi arrivare al nostro canale Manu stiamo aspettando per te stiamo aspettando per la tua risposta ho scritto tre volte non hai risposto a mia mail Manu sei uno sfaccismo di chi non compri i suoi merchandising non viene il cappello quanto meno il cappello 80 euro Manu Manu think about it Manu 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 si 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 ma dicono Manu don't be a coward no prima della fine di one piece ve lo giuro io ci vado sotto casa su a Tokyo ma che è andato in Giappone ad aprile a Tokyo ci rendiamo quattro giorni anche a maggio maggio mandorrei toski ad aprile ad aprile ci vado io e poi a novembre ci andiamo insieme quindi andiamo a stalkerare insieme Manu dove stai? eh chiudiamo i cappi dove è Manu? dove è Manu? ecco invece di dove è Wall-E dove è Manu? sarà sotto la torre con la dello sponsor no ma secondo me se gli scrivo ciao Manu sono un content creator cioè qua bisogna farlo un attimo eh però devi mascherarti devi mascherarti sì sono un content creator che viene in vacanza in Giappone ma ci possiamo incontrare per fare una foto e poi ti pago digli ti pago ti pago sì 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 assolutamente assolutamente fai con la candola perché con attaccato il dollaro lui arriva ah sicuramente ma infatti l'idea di Deconcini di contattarlo per una sponsorizzata per farsi rispondere era eccellente eh sì eh sì era eccellente sì sì infatti dice anche 141 Andrea scrivili che devi sponsorizzare un prodotto assolutamente sì 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 oppure digli che sei un giornalista che vuole produrre un articolo su Divo poi lo invitiamo in live diciamo ma che giornalisti strani fanno le live con 500 persone vabbè Oda ha messo tantissima carne al fuoco all'interno della narrazione forse troppo è possibile secondo voi che alla fine della storia restino dei punti di domande risolti ma io credo che i punti di domande risolti saranno le cazzate che la gente vuol sapere inutili che non hanno senso di essere risposte tipo che cosa sono le ombre di Tiller Bark quelle cose lì su cui la gente secondo me ti risponde cioè una cazzata te la se le inventa sì se vuoi ma sì ma dico cazzate di questo tipo cioè alla fine delle ombre Tiller Bark potrebbe anche non dirtelo perché sono i misteri del triangolo Florian punto la gente si trigga non ha raccontato tutto per me racconta tutto quello che deve raccontare anche perché si è visto che gli bastano due tavole per raccontarti tutto il contrario di tutto c'è la roba dei frutti del diavolo liquidate in quattro tavole eh sì ti racconterà come mettergli il sangue degli zon dentro degli oggetti basta sì la svelta posso fare posso dare una risposta molto cattiva lapidaria vai a parte che di questa cosa ho fatto una live che c'è su youtube su fributa durativo due ore ma se volete skiparvi la live diciamo reaction a questa domanda vi rispondo in tre parole è una chiave a posto andiamo avanti speriamo che non scambi xebec come fece Kishimoto con Zanaman no assolutamente anche se forse il problema di xebec è che è comparso in mezzo a vignetta ti hanno detto che era un pirata di tanto tempo fa che è andato a god valley ti fa vedere god valley basta quello è lo scopo di xebec quindi ti deve far vedere se non ti ha fatto vedere god valley durante il flashback di caldo vuol dire che comunque è importante quindi te la farò vedere in qualche modo e lì ci sarà xebec punto sì cioè alla fine io arrivo a pensare che la storia di xebec te la racconta barba nera ma sì chiunque te la racconti te la racconti te la racconta buggy perché è suo figlio vecchio cuore sarebbe bellissimo ma io ci credo dai uguale col naso rosso e i dei c'è roger che si prende il drago celeste dentro la cassa che è shanks e il figlio di xebec che è buggy infatti ma tu pensa di chi quando si incontrano il rosso e barba bianca cosa gli chiede al rosso dove sta quello col naso rosso che fine ha fatto è ancora vivo perché perché era il figlio del suo ex capitale infatti infatti è una cosa divertente ma il tuo amico col naso rosso ma che fine cioè tra le tante persone che si vada a ricordare buggy appunto perché poi quando si incontrano nella battaglia lì dove roger ingaggia oden cioè chi cazzo se lo vede buggy nessuno e poi in guerra quando lo incontra cosa fa si allea con buggy vecchio cuore cioè prima cosa che fa Newgate non è che dice no io mi alleo con lui perché c'è un sacco di gente dietro perché perché è il figlio del suo ti ricordo che buggy comunque è sempre il prestanone della cross guild è l'uomo che ha un nugolo di persone che lo venerano come una divinità quindi lui ha carisma è un dubbio guardati c'è un username tipico che dice che non ha letto One Piece si beh non ha i capelli non si è mai visto a colori e sono le fan art di merda che hanno messo i capelli rossi ma il rosso ha un altro cognome non è Rox il rosso si chiama Figuerland Shanks confermato confermato svelato questo è per un è un reel da fare tanto video abbiamo capito questo è da fare è svelato il nome di Shanks il vero nome di Shanks Figuerland esattamente e poi il nostro amico username tipico che chiaramente è un amichetto Sommo Budi che sta pure sul gruppo cioè lui non legge One Piece verso sempre qua è vecchio cuore è vecchio cuore assolutamente vi ricordo che Barba Nera nel ricordo di Oden ha detto che Buggy è forte di conseguenza sta nascondendo il suo vero potere ma no non è vero è il coso che Marco che ha detto che Shanks e Buggy sono due pirati navigati nonostante siano giovani ma cosa leggono questi dove le leggono queste cose di su non leggono cosa leggono non leggono è quello il punto perché non leggere One Piece io vorrei capire che allora qua bisogna allora qua adesso bisogna fare una domanda perché non leggere One Piece ma magari lo leggono anche che si affidano chiaramente poi agli charlatani vari della settimana li prendono per massimi esperti non sono massime chiavi solo se lo leggete dal giapponese solo se lo leggete dal giapponese potete scoprire la verità di solito leggo le mini avventure c'è gente che non lo fa pensa solo questo pensa adesso non legge le mini avventure adesso pensa già non averle lette anni fa quella di Enel è fondamentale c'è gente che ancora non sa che ci sono i pirati spaziati quindi ci mancherebbe altro questo è per il re per me come prendereste un'eventuale scomparsa dalla mamma di Rufy e in più se dovesse essere un personaggio importante ma ben venga ma ben venga ma chi se ne importa tanto lui dice ma chi cazzo sei ma chi ti ha mai visto è quello che farà con DRA io non vedo che ci vedono faccia a faccia perché lui dirà ma chi cazzo sei tu con il dito nel naso si ma si io sono tuo padre va bene c'è il nostro username tipico che dice una cosa che ci permette di fare se non è un discorso molto interessante che potrebbe sembrare un dissing ma non lo è hai mai pensato che forse la maggior parte della gente che legge One Piece lo legge tramite i dip tuoi e del re sarebbe una prova del fatto di aver portato seriamente One Piece al successo ma tu scherzi ma c'è gente che One Piece veramente non lo legge ma guarda i video di Gabriele i video miei i video degli altri amici che fanno i riassunti o parlano di One Piece perché vogliono stare al passo con la storia di One Piece ma non leggono One Piece ma questo non voglio trollare e io non ho mai capito il perché cioè ma un sacco di persone spesso me lo hanno anche detto proprio confessato ma anche lo stesso Caverna di Platone cioè adesso Caverna di Platone arrivo su One Piece ma per anni One Piece non ha letto ma vede i miei video tutte le settimane senza leggere One Piece così so che cosa succede ma non mi leggo il fumetto io non capisco il perché cioè non lo so arrivo a pensare che forse dato che comunque One Piece è un prodotto aggregante l'avere anche solo un'idea di quello che può succedere fa in modo che magari su internet puoi dire la tua questa è l'unica risposta che mi do ma se mi chiedi il senso di questa cosa io non la trovo vuol dire la tua parziale cioè di che cosa devi raccontare non hai la comprensione del testo non sai che cosa è successo cioè ti affidi a cose riportate da altri che potrebbero anche aver malinteso completamente il discorso boh terribile è terribile cioè come leggere il riassunto di un film su Wikipedia cioè lo fai se non te ne frega niente vuoi capire che cosa parla vabbè io me lo leggo ma non puoi andare a fare un dibattito o un discorso su quel film lì se hai letto soltanto riassunto di Wikipedia certo faccio anche un discorso ulteriore a me fa molto piacere quando ecco anche in chat le persone dicono ah io sono molto contento che il sabato esce il video del re il video di Sommo Buta il video di Tizio il video di Caio perché così arricchisco la lettura di quello è la cosa che mi fa più piacere il fatto che comunque lunedì stiamo qua a farci quattro chiacchiere anche se per esempio il capitolo non c'è il fatto che magari cerchiamo di approfondire altre volte la stessa cosa anche per ricordarcela meglio noi in realtà eh sì chiaro però ecco le persone che non leggono il capitolo di One Piece ma si vanno a vedere il video no questa non arrivo a comprenderla mi do una risposta ma non la capisco lo stesso perché le persone dicano ah One Piece è più bello perché c'è la community che ne discute quella è una cosa bella per carità però quelli che non leggono One Piece se vedono i video nostri non so che cazzo capiscono è quello a me capita ma io ho letto la traduzione diversa di qua di là ma a me non me ne frega un cazzo che traduzione tu hai letto se vuoi parlare con me di quantomeno aver letto quella che è scritto o sai il giapponese o ti affidi a chi il giapponese lo sa davvero e su questo noi vi diamo appuntamento ringraziamo anche Ironside per per l'abbonamento domani che fai domani sono in live con Tazel Wurm che è uno del bike lui è un esoterista un massimo esperto di tarocchi carte cose particolari e voleva darmi una sua interpretazione di questa cosa dei sogni dei desideri è una cosa particolare quindi se vi interessa il discorso più esoterico di One Piece vi aspetto alle ore 17 domani io invece domani sera alle 21 ho ospite di Geta Giacono ho ospite Giacono viene qui a farsi una chiacchierata con il buon Fred e quindi domani penso che domani facciamo quattro risate con lui mercoledì invece c'è la top 20 fumetti del 2022 non potete mancare giovedì ci diamo i saluti finali una serata classica venerdì ore 15 blind a reti unificate quindi ricordatevelo venerdì la blind alle 15 esatto potete stare dove volete voi su youtube su twitch fare il cazzo che vi pare facciamo questo pomeriggio appositamente per leggerci il capitolo darci gli auguri mandarci un abbraccio e poi insomma chi si è visto si è visto ci vediamo nel 2023 esatto bene ci aggiorniamo buonanotte buonanotte ciao grazie a chi si è scritto grazie a chi si è abbonato grazie a chi ha scritto grazie a chi ha vissato grazie a tutti e grazie al cazzo brazie a chi no buonanotte Grazie a tutti.